Allora, e riettemi dunque, altro nuovo video blog, ecco qua, e niente, praticamente ecco qua, con questo bello vestitino, mi piace, speriamo che si veda qualcosa, si si vede. E' nulla, praticamente, tra poco si mangia, quindi che bello, mi piace mangiare a me, si, lo so che sono un po' ingrassata, ma che me ne frega, l'importante è che sto bene io, che mi piace, che continuo a mangiare bene. Allora, oggi pomeriggio, penso che mi riposerò un bel po', e poi non lo so, forse mi guardo qualche video su YouTube, senza forse, io sto sempre guardando video su YouTube. Puoi essere riesco a fare qualche contenuto su TikTok e Instagram, e dopodiché, ovviamente, mi accingo a fare una ruota diretta su YouTube, vediamo come va. Allora, e niente, allora, madonna il caldo, ragazzi, non potete capire il caldo che c'è, mi sa che è così in tutta Italia, c'è. La mia stanzetta, e niente. Quindi, adesso tra poco mangio la pizzaiola, a pranzo, perché non voglio mangiare la cena, ma vedo che mio stomaco rompe le valle, e quindi devo mangiare per forza la pizzaiola, che serve una fettina fatta, una fettina fatta, la pizzaiola, scusate, il rumore della nave, del tragetto, quello che è, però non ne posso fare almeno, perché o registro o faccio altro, quindi vabbè. E vi dicevo, mia nonna sta facendo la pizzaiola, e io nel frattempo non la faccio altri video. Allora, qui abbiamo aperto un altro cantificio della Colgate, o Colgate, come si voglia. E' costato, ve l'ho fatto vedere, sì, 1,70. Molto buono. Già. Qui ho appena fatto il video dei prodotti, dei prodotti finiti e preferiti, e nulla. Niente, tutto questo. Dunque, dunque. Qui mi devo truccare, ma non è buio, perché fa troppo caldo, ragazzi, per truccare si può, vabbè. Qui c'è la mia borsetta, dovete vedere. La mia borsetta. E nulla. Ah, non vi potete vedere i vestiti che abbiamo messo a conti, per andare dal dentista. Ho messo questo qui, questo pantalone, con questo fiocchettino, in mezzo all'ombelico. E poi, infine, questa maglia qui, che adesso è tutta svolcita, ma non fateci caso, ha una bella fantasia. Questa maglia, con la piano perché ho poca voce, non dico per nulla. La voce la potete alzare, ma poi mi scolo e non mi sembra il caso. Per chi dice che io, creo, sono lenza, vuol dire che vi piace, altrimenti non so che dirvi. Andate oltre, comunque niente. Anche se creo che sono lenza, è ben bene, secondo me, vi rilassate almeno. Ciao. E niente. Quindi adesso io stacco e ci vediamo in un altro video a parte. Ciao. Buon pranzo, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un like, ti sopporto e iscrivetevi su tutti i social TikTok, Facebook, Instagram e basta. Ciao.